Emozioniacolori.it presenta Mangio Meglio con Simona Perseo Ci siamo Simo, buongiorno e ben ritrovata qui su Radio Nostalgia Questo è Mangio Meglio, il programma che ogni martedì fino alla fine del mese Vi insegna a vivere meglio con il proprio corpo ma soprattutto a vivere meglio Quando ci si siede a tavola, quindi ad avere un buon rapporto con il cibo Come sempre con me c'è la biologa, nutrizionista Simona Perseo, buongiorno Buongiorno E tutti voi che siete pronti all'ascolto a percepire, a captare il nuovo argomento di oggi Proseguiamo un percorso che abbiamo aperto tre settimane fa, infatti oggi parliamo del magnesio Sì, il magnesio che è un minerale importantissimo, tanto che è stato definito l'amico della donna In quanto molti disturbi femminili sono proprio legati alla sua carenza Infatti nel post di questa settimana troverete dei consigli che sono diretti soprattutto alle elettrici femminili Anche se comunque devo dire che il magnesio è un minerale indispensabile per tutto, per tutti quanti Scusate, in quanto partecipa a importantissime reazioni metaboliche come ad esempio la sintesi delle proteine, dei grassi, degli acidi nucleici e al metabolismo del glucosio Agili acidi nucleici e al metabolismo del glucosio Svolge numerosissime funzioni e una sua carenza può provocare svariati disturbi più o meno seri Dai più gravi che possono essere crampi muscolari, nervosismo, ansia, ipertensione, cardiopatia, osteoporosi, debolezza muscolare E praticamente una dieta varia e bilanciata comunque è sufficiente per apportare giornalmente le giuste quantità di questo importante minerale Allora in quali alimenti si trova il magnesio? Ecco, vediamo quali sono gli alimenti, quindi se assumete spesso questi alimenti non avete bisogno di prendere degli integratori Certo, allora innanzitutto c'è da dire che il nostro organismo non è in grado di produrre magnesio Quindi deve introdurlo necessariamente con l'alimentazione per non risentire della sua carenza Allora si trova principalmente nei semi oleosi Semi di girasole, semi di sesamo ad esempio Nelle noci, quindi nella frutta con guscio Noci, mandorle, nocciole, pistacchi E in alcune frutte tipo i datteri Nelle arachidi, nelle banane, nei fichi, nelle mele Tantissime a frutta Infatti dicevano una mela al giorno, toglie i maricoli Certo, anche Nelle pesche, nelle albicocche e nel germe di grano Poi in tutti i cereali integrali Nei legumi, in molte spezie ed erbe aromatiche Nell'aglio, nei broccoli, nel cioccolato fondente Quindi guardate quanti cibi Sono ricchi di magnesio Ero già preoccupato, per male che c'è anche il cioccolato fondente Almeno qualche po' di magnesio Lo prendo anche io Va bene, dai Allora, comunque apriamo una parentesi È anche per questo che molto spesso si ricerca il cioccolato Cioè il cioccolato è buono Dà piacere Ah, non si ricerca solo per la carenza d'affetto? Non soltanto Per la carenza di magnesio? Anche per la carenza di magnesio Amici, amiche all'ascolto Quando vi dicono è carenza d'affetto? No, è carenza di magnesio Rispondeteli così e vedrete che chi vi sta prendendo in giro La smetterà di parlare Sì, come però Il burlone della puntata Vabbè, dai, andiamo avanti Diciamo che ne sono presenti anche di discrete quantità Sì, mi ha fatto perdere il filo Nei vegetali a foglia verde Mentre pesce, carne e latticini Presentano contenuti molto modesti Diciamo che quando questa sostanza è carente Si presenta, come ho detto all'inizio Debolezza muscolare Alterazioni per quanto riguarda la donna Dei cicli ormonali femminili E a volte perfino depressione Diciamo che quando si manifesta questa carenza Che deve essere sempre chiaramente riscontrata da un medico A volte può essere anche utile ricorrere a degli integratori Perché se l'alimentazione non è equilibrata Esistono anche numerosissimi integratori a base di magnesio L'integrazione appunto con questo minerale È molto indicata per le donne di tutte le età Che siano sportive, giovane, anziane, depresse Durante la menopausa, la gravidanza È utilissimo ad esempio per attenuare Per attenuare i sintomi della cosiddetta sindrome premestruale Nella menopausa invece è molto indicata per combattere gli stati d'ansia E anche l'eccessiva sudorazione, l'insonnia e gli sbalzi d'umore Un'ultimissima cosa Attenzione ai nemici del magnesio Sembra un po' il sottotitolo di un film per supereroi Cioè il magnesio del supereroe Ma come sempre ogni supereroe ha un nemico Quali sono? Sono sostanze che interferiscono con la sua assimilazione Caffè, zucchero, diuretici, dieta alto contenuto di calcio E forte stress e attività tiroidea ridotta Adesso vi faccio ridere Quindi se, allora, se prendete il magnesio Non dovete bere caffè Ok Non dovete chiaramente assumere tanto zucchero Tanti diuretici Guardate meno partite Dieta alto contenuto di calcio vuol dire questo E attività tiroidea ridotta a forte stress Vabbè era una cavolata Era per chiudere così in bellezza Sto ridendo col sorriso Questa puntata di Mangio Meglio Con la nostra biologa nutrizionista Simona Perseo Quello che vi abbiamo appena raccontato Lo trovate anche in versione testuale Sul nostro sito dedicato alle nostre rubriche www.emozioniacolori.it La dottoressa invece è Simona Perseo La trovate nei suoi studi di Forte dei Marmi Massa e Viareggio Potete prendere un appuntamento con lei Contattandola al 335 7060107 Simo, noi ci ritroviamo tra sette giorni Sempre qui su Radio Nostalgia Ciao Ciao Radio Nostalgia Vi ha presentato Mangio Meglio Appuntamento tra sette giorni Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti